Signore e signori, vi presento il cantore di Roma, Pietro Capaglia, dentro il Sor Cavagna. Sor Cavagna, che c'è qualcuno povero e periccio senza valla. Si mette a scopo da riconti i fatti dell'uomo che io ho permesso a chiare dalla tribuna e del Corriere dei Vigori. Non vi faccio sentire una tragedia in tre personaggi e tre battute. Le personaggi sono il Conte, la Contessa all'intera, la Lino che non parla. Il Conte entra nel botto nella camera da letto e fa freddifraga, so tutto. La Contessa ho il po' e svieme. Il Conte è sempre così, non si non va a finire un discorso. A Piazza Settra c'è sta un scutatore. Conte è lì, non è un scutatore. Ma è il pistollo, eh? C'è stanno quattro donne a Pegorone, qualche puzzuro si è scannalizzato. E c'è in mezzo uno partito che funziona da verino. E c'è in mezzo uno partito che funziona da un po' e svegliere 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 un po'. E' un po' e svegliere 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 un po' perché io faccio che tu non c'entri niente, la legge della Paglia, perché io faccio che tu non c'entri niente. Non c'entrano morocchi, stonfine da quella quindici-diciotto, la quindici-diciotto era vera, sapere, che è il Mondiale, del genio-venta donna, ha scritta la regina, del genio-venta donna ha scritta la regina. Se poi vede a Trieste compro una cartolina Pobba e c'è la rifanore che ti ha Pobba e c'è la rifanore che ti ha E il cielo al capogna si mangiano i bestecchi E il cielo al capogna si mangiano i bestecchi E il tesi a misi a cani le gane fanno eserci Pobba e c'è la rifanore che ti ha L'emolizione al fronte non fanno che sbarare L'emolizione al fronte non fanno che sbarare E il tesi a misi a cani sono tutti senza valle Pobba e c'è la rifanore che ti ha Pobba e c'è la rifanore che ti ha